C'è un discorso, da dove vanno i nostri assegnati, San Gino e i nostri assegnati, Ci pari con i nostri assegnati. Non ci sia un'isola, non è il prevede, Non è il prevede, non è il prevede, Non ci sia un prevede, Non è il prevede, non è il prevede, Non è il prevede, non è il prevede. Anche a te la speranza mi può, Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti.